bentornati ragazzi sono giovanni e oggi sono qui per guardare il nuovo trailer di venom ragazzi film che uscirà quest'ottobre non mi voglio sbagliare insomma tra settembre ottobre di quest'anno un film un film è interessante un film interessante che si prospetta interessante e vediamo questo trailer il primo trailer non ci ha mostrato molto non ci ha mostrato c'è soltanto dato un assaggio ecco di quella che sarà l'atmosfera generale ma adesso vediamo il vero venom ragazzi ufficio al trailer volo al massimo perché mettono sempre questi cinque secondi nel trailer è un momento in cui molti hanno soggettivi di raccogliere la storia inizia oggi l'atmosfera 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 Grazie a tutti. Il stile è molto horror. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devo confermare le mie impressioni al trailer precedente. Ecco, c'è un'atmosfera molto horror, il che non era scontato al 100%, devo essere onesto. Quindi è un pochino diverso rispetto ai soliti film della Marvel. Secondo me Tom Hardy è perfetto per l'interpretazione di questo personaggio. A mio avviso la regia è ottima, poi certo non posso giudicare soltanto da due minuti e mezzo di trailer, anzi quattro minuti considerando il trailer precedente. Non posso giudicare però come primo impatto diciamo che la regia sembra ottima, sembra. Tra l'altro mi sono anche scontato chi è il regista. Gli effetti speciali ragazzi, Ruben Fleischer, ok? Gli effetti speciali non mi convince del tutto la trasformazione di Venom nel costume. Sembra plastica, poi certo potrei anche sbagliarmi, però davvero sembra plastica. A mio avviso preferirei quello di Spider-Man 3. Sembrava più reale, sembrava più realistico. Poi certo sappiamo perfettamente che gli effetti speciali del trailer sono cosa separata rispetto agli effetti speciali che poi inseriranno nel film, nella pellicola. Quindi anche qui non posso giudicare e non posso essere sicuro al 100%. Ma la trasformazione ragazzi, ecco la trasformazione credo che sia qualcosa che non si può cambiare. Sembra veramente, sembra a me che indosso il costume di Pikachu, che metto il cappello di Pikachu qua. Non mi convince al 100% ragazzi, ma ditemi veramente cosa ne pensate voi di questo trailer, di questi trailer. Mettete un like se il trailer reaction vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale se per caso non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao.